Entro venerdì 10 agosto la nuova associazione sportiva L'Aquila Calcio dovrà iscriversi alla Lega Nazionale di Lettanti per disputare il campionato 2018-2019. Un'iscrizione in sovrannumero che sarà vagliata dall'organo calcistico. Dovrà pertanto essere formalizzata entro venerdì anche la costituzione della nuova società, annunciata in fretta e furia omettendo perfino di comunicarlo a tutta la stampa da parte dell'assessore allo sport del comune dell'Aquila Alessandro Piccinini. La speranza dell'assessore della nuova società rappresentata dall'avvocato Marco De Paulis in qualità di presidente è di ripartire dalla promozione anziché dalla ventilata o meglio paventata prima categoria come da regolamento. Della nuova società si sa poco, presidente è Marco De Paulis, socio di riferimento dell'imprenditore di Caserta Ernesto Pensi, della Pensi S.p.A., una società che lavora da quasi 10 anni nella ricostruzione dell'Aquila. Pensi, già in passato, si era interessato alla squadra, ma era stato poi scoraggiato dalla situazione debitoria, che si aggirerebbe intorno ai 2 milioni di euro, cifra però mai ufficialmente confermata. Il responsabile del settore tecnico sarà Maurizio Ianni. Intanto è stata segnata la parola fine per l'Aquila Calcio 1927, con la mancata iscrizione al campionato di Serie D da parte di Gianluca Ius. Si attende ora la liquidazione della società calcistica.